Independent Dance, vite in ballo. Si chiama così l'evento promosso dalla Caritas Idiocesana di Pescara Penne con l'amministrazione comunale di Pescara in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Venerdì 9 giugno al Parco Villa De Risis a partire dalle ore 16 si aprirà lo spazio alla riflessione, ma ci saranno anche mostre, laboratori, danze e tanta musica per un evento rivolto alla cittadinanza di Pescara e agli stessi migranti di tutte le età. Sarà un pomeriggio fino a sera con diverse attività. Ci sarà la presentazione di un fumetto che racconta una storia emblematica di uno dei migranti che appunto partendo dal suo paese ha raggiunto l'Italia e vive questo momento come una grande gioia, una grande soddisfazione, ma anche un po' con il pensiero a chi è rimasto nella propria terra e un pensiero anche a chi non ce l'ha fatta. Oltre alla presentazione della pubblicazione, il forte e coraggioso Jonas ci sarà anche l'inaugurazione della mostra vita in ballo. Anche l'accoglienza fa il suo bilancio per il 2022 e la Caritas di Pescara Penne ha diversi centri SAI e CAS. Il sistema di accoglienza è diversificato. Esistono i centri di accoglienza straordinari che sono i CAS che sono direttamente convenzionati con la prefettura. La Caritas di Ocesana in questo momento ne ha due. Uno in cui accogliamo all'incirca 80 persone e un altro centro aperto da poco dove ne accogliamo altri 40. E poi c'è questo sistema che è il SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, che è una seconda accoglienza. Anche qui è portato avanti dall'amministrazione comunale di Pescara da tanti anni. In collaborazione con la fondazione Caritas di Pescara abbiamo un centro di accoglienza maschile che è fino a 18 posti e un centro di accoglienza femminile fino a 15 posti. Sono 37 gli uomini accolti nei sistemi di accoglienza e integrazione, per lo più nella fascia di età 18-25 anni. La nazionalità prevalente è quella pakistana. 12 le donne accolte di fascia d'età tra 26 e 40 anni e 8 minori. Si tratta per lo più di bambini e ragazzi fino a 12 anni, in prevalenza nigeriani e somali. 138 invece sono gli uomini accolti nei centri di assistenza straordinaria, per lo più giovani dai 18 ai 35 anni. E' di nazionalità prevalente pakistana, bangladese ed egiziana. L'89% ha richiesto la protezione internazionale. La Caritas ha accolto anche le richieste di 101 famiglie ucraine.